Allora, voi la lingera. La legge non permette che la lingera la vada a lavorare. Martedì poi è il giorno seguente. Male mi sento, non vado a lavorare io e Leo. Martedì poi è il giorno seguente. Male mi sento, non vado a lavorare. Mercoledì la testa mi ricerirà. Io in osteria me ne vado a lavorare io e Leo e Leo e Leo. Mercoledì la testa mi ricerirà. Io in osteria me ne vado a lavorare. Giovedì poi è il giorno più bello. E proprio per quello non vado a lavorare io e Leo e Leo. Giovedì poi è il giorno più bello. E proprio per quello non vado a lavorare. Venerdì poi è un giorno di dolore. È morto il Signore. Io in osteria me ne vado a lavorare. Non vado a lavorare. Venerdì poi è morto Gesù Cristo. Io non l'ho mai visto, non vado a lavorare. Venerdì poi è morto Gesù Cristo. Io non l'ho mai visto, non vado a lavorare. Sabato poi è l'ultimo giorno. E io per tutto il giorno non vado a lavorare. O Leo e Leo e Leo. Sabato poi è l'ultimo giorno. Io per tutto il giorno non vado a lavorare. Arriva la domenica e aspetto sul portone Che venga il padrone che venga a pagare Olio e Leo e Leo e Leo e Leo. Allora? Il padrone non arriva però... I soldi? Cioè nessuno ne paga. Nessuno ne paga. Eh no no. E allora? E allora è... Che va di sullo strega il padrone La sua fabbricata La lingerà ma andrà a lavorare. Che va di sullo strega il padrone Nella sua fabbrica Talla lingerà ma andrà a lavorare. Bravi complimenti, grazie Pandemonio, Marco, Giacomo, Riccardo e Vittorio. Noi ci rivediamo in altre occasioni. Vittorino. Vittorino. Ecco e non diciamo perché. E allora... E allora...